Il nostro sogno era questo, dall'inizio del campionato abbiamo creato la squadra per arrivare in cui ce l'abbiamo fatta Finalmente tocchiamo, noi meritiamo, in serie a domande, toccia ieri, l'altro ieri Partita dopo partita, ce l'abbiamo fatta, adesso pensiamo a domani perché il nostro avventivo è anche la top Raccontami la partita di oggi È stata una partita, una partita combattuta anche se siamo riusciti a dare i trecchi subito al primo tempo Andiamo a sfogliare, abbiamo giocato una difesa quasi perfetta Poi il secondo tempo la stranchezza, già nelle due partite precedenti Però siamo riusciti a rimanere concentrati all'inizio della fine e all'inizio della fine I nostri tifosi sono rispetto a un giocatore in campo Abbiamo la fortuna di averli sempre in belle trasferte